Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video un pochino diverso dal solito, che riguarda sempre la cyber security, ma un aspetto che io ho compreso molte volte tralascio, che è la sicurezza dei dati. Ma i dati non si riferisce solo esclusivamente a qualcosa di oggettivo, per esempio, che so, il codice fiscale o la carta d'identità o l'informazione sul tuo telefono. Ti faccio vedere un minuto di un video che ho trovato su TikTok, dove poi io ho scambiato alcune battute con un utente che commentava e ti dico cosa dice la legge al riguardo. Ora, il ragazzo in questo video, è un dialogo, è un dialogo, è un dialogo, è un dialogo, è un ragazzo qui. Ora, il ragazzo in questione può o non può registrare una conversazione in questo caso, anche se lui dice io riprendo me stesso, può farlo secondo il GDPR e secondo i decreti vari italiani sulla privacy? Bene, non può farlo. E adesso io ti spiego queste due cose e in più ti dico subito che l'utente con cui abbiamo scambiato qualche commento dice che c'è una sentenza della Cassazione numero 3674 del 2003 che dice qualcosa, perché non specifica, quindi io sono andato a guardare. Allora, intanto ti annuncio che in Italia la legge sulla protezione della privacy e dei dati personali è regolata dal codice in materia di protezione dei dati decreto legislativo 196-2003. Vi prego andate a controllare oppure scrivete su chat GPT decreto legislativo 196 del 2003 e vi appare. E dal regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR dell'Unione Europea. Registrare una persona anche se non è identificabile, ad esempio non si non si sente il volto, non si sente chiaramente la voce, può comunque costituire una violazione della privacy a meno che non ci sia un consenso esplicito o ci siano altre giustificazioni legali per farlo. Infatti su TikTok spesso si vede delle scenette, c'è un rivenditore, di nuovo rivenditore, un'azienda che produce siti web, hosting, eccetera, a volte, molte, molte, anzi sempre, in scena delle situazioni reali a dire suo con dei clienti, ma la voce è quella del titolare dell'azienda, mentre l'altra è di un suo collega, molto probabilmente, che ovviamente gli ha dato il consenso per poterlo fare, se no anche lui non potrebbe farlo. Oppure c'è quel negozio di informatica VG, VG informatica di quel ragazzo, che in scena una fantomima con dei fatti realmente accaduti, ma non col cliente. Ma andiamo avanti. Che non si sente chiaramente la voce, in questo caso si sente, può comunque costituire una violazione della privacy, a meno che non ci sia il consenso esplicito o ci siano altre giustificazioni illegali per farlo. Ecco alcuni punti da considerare. Identificabilità. Anche se la persona non è immediatamente riconoscibile, altri dettagli come la voce, la postura o il contesto potrebbe rendere possibile l'identificazione. Io la ragazza in questione non la vedo, ma se la conosco potrei identificarla. Consenso. La regola generale è che il consenso della persona interessata è necessario per registrare e diffondere il video. Ci sono eccezioni come l'uso per scopi giornalistici o di sicurezza, ma devono essere giustificati. Infatti, quando si entra in un negozio, per esempio, o in banca, c'è il cartellino zona soggetta a registrazione sulla CCTV e loro lo possano fare per motivi di sicurezza, ma per nessun motivo lo possono divulgare al pubblico se non chiaramente in un tribunale o sull'ordine di un giudice o ovviamente della polizia se richiesto. Uso personale. Se il video è destinato solo ad uso personale e non viene condiviso pubblicamente, le regole possono essere più flessibili, ma è comunque buona norma ottenere il consenso della persona, quindi tecnicamente non può farlo. diffusione del video. La pubblicazione o condivisione del video, anche se la persona non è, anche se la persona non è identificabile, può comportare responsabilità legali. In sintesi, per evitare potenziali problemi legali è consigliabile ottenere sempre il consenso esplicito della persona prima di registrarla, anche se pensi che non sia riconoscibile nel video. Ora, l'utente con cui ho scambiato qualche commento cita la sentenza della Cassazione 3674 del 2003 e io l'ho qui davanti. Che cosa dice? La sentenza della Corte di Cassazione 3674 del 2003 è una decisione importante in materia di privacy e registrazioni audiovisive in Italia. Questa sentenza stabilisce alcuni principi fondamentali riguardo alle registrazioni e conversazioni o immagini di altre persone senza il loro consenso, che è un punto chiaramente importante, senza il loro consenso. Ecco i punti chiavi. Registrazioni audio video. La Cassazione ha stabilito che le registrazioni di conversazioni o immagini di persone, anche luoghi pubblici o aperti al pubblico, quindi anche un negozio, può costituire una violazione della privacy se la persona non è a conoscenza delle registrazioni o non ha dato il suo consenso. Ovviamente. Consenso. Il consenso della persona interessata è fondamentale. Se una persona non è consapevole di essere registrata e non ha dato il suo consenso, la registrazione può essere considerata illegittima. Contesto della registrazione. Anche se la registrazione viene effettuata in un luogo pubblico, ciò non significa che la privacy delle persone coinvolte possa essere ignorata. La Cassazione ha riconosciuto che anche in luoghi pubblici una persona ha diritto alla riservatezza. Scopi della registrazione. La sentenza sottolinea che la registrazione può essere legittima se effettuata per motivi di sicurezza, vedi le telecamere a circuito chiuso, difesa di un diritto in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico. Ma anche in questi casi è necessario rispettare i principi. I principi di proporzionabilità è necessaria. Questa sentenza quindi ha ribadito l'importanza del rispetto della privacy e della necessità di ottenere il consenso prima di effettuare le registrazioni della persona. Anche se queste registrazioni avvengono in contesti dove la privacy potrebbe sembrare meno tutelata. Quindi la cyber sicurezza anche in questi casi è fondamentale perché riguarda anche questi casi. Grazie per aver guardato questo video e al prossimo.